E' il giorno del dolore dell'ultimo saluto a Francesco Renzetti, il 17enne vittima del drammatico incidente in Viagiotto ad Arezzo, uno scontro fatale tra una moto 125 ed un'auto. Un dramma che ha sconvolto l'intera città che oggi piange il giovane e che si è fermata in segno di lutte e di rispetto ai familiari. Questo pomeriggio è funerale in cattedrale, migliaia le persone in Duomo per dire così addio al ragazzo. Presenti le squadre di calcio dove Francesco ha giocato, Santa Firmina e Dolmoponte, i ragazzi del liceo scientifico e tanti amici che si sono stretti attorno al dolore indicibile della famiglia. Francesco era un giovane calciatore, giocava nel ruolo di difensore, oggi in tutti i campi del dilettante e delle giovanili in provincia di Arezzo, un momento di silenzio per ricordarlo su decisione della federazione. Ieri al liceo scientifico Redi, Dolore e Sgomento, i compagni di Francesco si sono stretti nel cortile per un minuto di silenzio, la bandiera resta ancora a lutto. Annullato infine anche lo spettacolo della compagnia tetrale, siamo un pezzo avanti che è sede a Santa Firmina, frazione dove il giovane viveva. A salutare Francesco fuori dalla chiesa, scooter, vespe e moto da cross, grande passione del 17enne, attorno ad ogni manubrio un palloncino bianco, un rombo per dire così un'ultima volta addio al giovane. Francesco adesso riposerà al cimitero di Santa Firmina dove viveva con la sua famiglia e dove stava rientrando la sera del tragico incidente.